La notizia dei quasi mille casi di nuovi positivi al coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore preoccupa. In particolare, a mettere allarme, sono le varianti inglese e brasiliana registrate soprattutto tra Arezzo, Siena e Grosseto. Per il territorio aretino è la Valtiperina la principale attenzionata, ma il presidente della regione, a margine della conferenza stampa per il primo viaggio del Frecciarossa che ferma a Terontola, si è detto poco incline ad andare contro la volontà dei sindaci. Le indicazioni del governo sono chiare in caso di aumento dei positivi e presenza di varianti del virus, la zona rossa deve essere disposta anche nei comuni limitrofi. Lei su Sansepolcro si era già espresso sul lasciare decisione ovviamente al sindaco su un mini lockdown, è sempre di quell'opinione? Il mio criterio generale, nel momento in cui si presentano dei focolai, il riferimento per me in quel territorio diventa il sindaco. È evidente che io sono portato a isolare, quindi a fare la zona rossa, ma non voglio mai farla contro la comunità locale, quindi come un intervento che poi il sindaco non sostiene. Quindi io mi sono trovato negli stessi giorni a due situazioni parallele. A Chiusi, dove il rapporto con l'Umbria e quindi con le varianti era strettissimo, sappiamo che Chiusi e Città della Pieve rappresentano territori molto integrati e il sindaco Iuri Bettolini nel nostro colloquio mi disse subito che lui era disponibile. Voi avete visto che abbiamo messo per una settimana Chiusi in zona rossa e abbiamo fatto un tampone di massa a 6.200 persone su 8.500, peraltro con risultati molto importanti perché ci hanno consentito anche di verificare che ancora Chiusi non era così contagiata come qualcuno poteva immaginare. Negli stessi giorni con cui parlando con Iuri Bettolini decidevamo di rendere Chiusi zona rossa, parlavo con il sindaco di Sansepolcro, peraltro molto attento, molto consapevole delle problematiche del territorio della Valtiverina, dell'integrazione fra Sansepolcro e i comuni Umbri di Citerna, San Giustino e Città di Castello che portano almeno 300 studenti nelle scuole di Sansepolcro. In quel caso però il sindaco di Sansepolcro lo vedevo non pienamente convinto è la zona rossa e quindi non l'abbiamo fatta e io mi muoverò su tutto il territorio così, se ho il sindaco d'accordo si isola e si fa un intervento forte di prevenzione con la zona rossa, se non l'ho d'accordo preferisco non forzare la volontà di una popolazione. Comunque siamo sempre in una regione come la Toscana che è zona arancione, quindi non è che non ci sia una prevenzione. La prossima settimana la regione toscana sarà certamente ancora in zona arancione, per quelle successive ci sono grossi dubbi.